Sulle ali della Vespa Presentato al Teatro della Compagnia di Firenze Lo short movie realizzato dagli studenti attori dell'Ipsia Pacinotti Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo Felice ed emozionato Questa è l'idea della nostra Toscana che guarda al futuro Corecom, la Toscana che vorremmo nel 2050 Presentato il nuovo concorso per videomaker Dal titolo Toscana in spot 2021, ritorno al futuro Grazie a tutti Un mito, la Vespa Un progetto realizzato dai giovani studenti dell'Ipsia Pacinotti di Pontedera E un'idea di Toscana che guarda al futuro È stato presentato in anteprima lunedì 14 giugno Presso il Teatro della Compagnia di Firenze Il cortometraggio sulle ali della Vespa Il lavoro guidato dal regista Renato Raimo In stretta sinergia con i giovani Che ha avuto come location il comune di Vico Pisano Il messaggio è univoco Tramandare ciò che siamo Emozionato, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo Che ha dichiarato Il film ci aiuta a ricordare quanto sia indispensabile scommettere sul futuro Senza mai scordare o abbandonare le proprie radici Oggi celebriamo la ripartenza Non appena mi è stato proposto E ringrazio il sindaco di Vico Pisano Matteo Ferrucci Ringrazio Renato Raimo L'ho accolto subito con grande entusiasmo Perché in questo video Che io ho avuto la fortuna già di vedere C'è la nostra idea di Toscana Il racconto attraverso gli occhi del nonno Ex operaio della Piaggio Del mito della Vespa A un nipote sedicenne La voglia di ripartenza L'idea di un'Italia che ce la può fare Di un'Italia che scommette sul futuro La Vespa è un mito Un mito per tante italiane e tanti italiani È un simbolo di toscanità nel mondo La Vespa è saper tenere insieme tradizione e innovazione La tradizione legata alla vita Che tanti di voi, tanti di noi hanno avuto sulla Vespa I primi amori, le prime conoscenze La voglia di guardare al futuro con speranza E dall'altro l'innovazione L'innovazione legata a nuove tipologie di mobilità Penso alla mobilità elettrica E poi quel titolo sulle ali della Vespa Il nostro simbolo, il simbolo della regione È il Pegaso alato Con le sue zampe nella storia Esattamente come la Vespa Ma con le ali che guardano al futuro Allora quale miglior momento Quello lunedì di poter raccontare questa idea di futuro E quale miglior momento Quello di poter raccontare un percorso importante Fatto di formazione delle ragazze e dei ragazzi Lo vedrete Ci sono tante ragazze e tanti ragazzi giovani Che Renato ha aiutato Ha aiutato a crescere A portare fuori i propri talenti A portare fuori la voglia di vivere E allora grazie Grazie a Renato per essersi messo a disposizione Grazie a quelle ragazze e quei ragazzi Che vedremo sul palco del teatro lunedì prossimo E davvero la voglia di ripartire Con speranza verso il futuro Il sulle ali della Vespa Girato proprio durante il Covid Porta in sé una magia particolare Vuoi perché racconta un mito Quello della Vespa che tutti conosciamo E che le generazioni a cui si rivolge Appunto i sedicenni Hanno recepito in maniera Oltre l'aspettativa Il protagonista gira con l'iPhone in tasca Ma arriva a scuola col caino Ecco quindi E non stride tutto questo Anzi sembra perfettamente Collocato in un racconto Dove chiaramente La magia del racconto Porta un nonno Che ha lavorato alla piaggio A trasmettere questa passione Che poi forse è la mia Di regista e che ho inconsciamente Come dire Incastonato nel racconto E quindi è venuto fuori La freschezza La gioia di raccontare Un percorso adolescenziale Tutto rimane perfettamente Nella vita di oggi Non è retorica Non è stata stravolta la vita dei ragazzi Anzi io ho chiesto proprio A loro questo Come vivreste oggi voi Questo mito Questo modello Questa grande avventura Che si chiama Vespa La situazione a Vecopisano Sta riprendendo Cominciamo a rivedere Turisti Visitatori Non ancora chiaramente A livelli pro covid Dove erano in grande crescita Questo è un altro importante progetto Importantissimo anche come visione Che noi vogliamo appoggiare Che stiamo appoggiando E che spero che anche la regione Continui a appoggiare con questa forza Per ottenere risultati importanti Per la nostra comunità Il progetto nasce nel 2019 Quindi in un anno In cui non era minimamente prevedibile La pandemia e l'emergenza E tutto quanto è seguito Nasce quindi come un progetto Incentrato da un lato sul territorio Dall'altro su temi Che potessero essere cari anche Al mondo giovanile Al mondo della scuola Ci sono il rapporto tra nuove e vecchie generazioni C'è anche un piccolo cenno al tema ambientale C'è il tema del bullismo E c'è il tema del territorio Perché noi siamo un istituto Che si inserisce in un contesto territoriale Che ha una tradizione economica gloriosa Quella della Piaggio e quella della Vespa Che è un simbolo di una transizione dell'Italia Da un certo periodo storico ad un altro E direi che questo valore di simbolo Lo conserva tuttora Pur essendo un prodotto della meccanica Dei decenni passati Ha la capacità di incarnare un sogno Un volo verso il futuro Quindi noi volevamo proprio esprimere questo L'essere ancorati al territorio Ma con un volo Una proiezione Verso il futuro Attraverso le competenze Che la scuola insegna ai giovani E tra queste anche il linguaggio cinematografico Che comporta una crescita Di tantissime competenze trasversali Nonché il tema appunto Del progresso tecnologico Che la Vespa rappresenta Ci siamo trovati Nostro malgrado A realizzare un progetto Che nel passaggio Tra l'anno 2019 E l'anno 2020 Quindi un anno davvero critico Per il paese Tragico per il paese È venuto caricandosi In corso d'opera Di ulteriori significati simbolici Quindi è stata Una enorme scommessa Inizialmente contro il tempo Perché la pandemia Aveva bloccato Le attività progettuali Ma poi è diventato Molto di più È stata Una scommessa Di farcela Nonostante la pandemia È stato presentato Al Palazzo del Pegaso Il bando di concorso Per videomaker Toscana in spot 2021 Ritorno al futuro Indetto dal Corecom Il comitato regionale Per le comunicazioni Per il conferimento Di premi Ai migliori spot video Realizzato Sul tema della Toscana Che vorremmo vedere Nel 2050 Si tratta Di un'iniziativa Che consente soprattutto Alle nuove generazioni Di esprimere La propria visione Dello sviluppo Della nostra regione Dal punto di vista sociale Culturale Economico Ed ambientale A venire premiati Saranno i tre migliori spot Audiovisivi Realizzati da videomaker E autori Residenti In tutta la Toscana Questo bando Prevede la possibilità Di offrire Ai filmmaker Che vorranno partecipare La possibilità Di vedere la Toscana Nel 2050 Quindi di dare Massimo sfogo Alla creatività Alla fantasia E all'immaginazione Che è poi Libertà E allora Pensare a come Noi Viaggeremo A come noi Costruiremo Le nostre città A come noi Lavoreremo Molte cose Con la pandemia Hanno modificato Il nostro sistema Di mobilità Di cultura Di comunicazione Ecco Probabilmente Quando costruiranno Lo spot Della Toscana Nel 2050 Queste cose Faranno Ricchezza Del progetto Della Toscana E poi vorremmo Anche però Ci auguriamo Che la costruzione Di questi messaggi Della Toscana Del 2050 Siano di giovani Che guardano In positivo Alla Toscana Quindi Alla Toscana Di diritti Alla Toscana Che amiamo Ma sicuramente Una Toscana Più contemporanea E che quindi Abbia La creatività E la positività Come temi principali Pensiamo Che questa incertezza E la pandemia Però Determineranno Anche un modo Diverso Di tutti noi Di affrontare La quotidianità E allora Questo sarà interessante Capire Che non saremo Però in un film Di fantascienza Noi vorremmo Che non si vedesse L'abbiamo chiamato Ritorno al futuro Questo spot Pensando A un film Che era di fantascienza Ma che non era Poi del tutto Di fantascienza Ed è questo Che noi chiederemo Di raccontarci Una Toscana Vera Concreta Anche se è una Toscana Che oggi È molto lontana Da quella che viviamo Il concorso Come negli anni scorsi Ricordo Noi l'abbiamo fatto Sul gioco d'azzardo Sulla violenza Sulle donne Sulla ripartenza Abbiamo Un tempo Che è fino a settembre Affinché I Coloro che vogliono Partecipare Presentino Uno spot Uno spot Di un minuto Come sono Gli spot Promozionali Di progresso Di comunicazione Ci sarà Una giuria Ogni anno Diversa Ma di Persone Competenti Sui temi Della comunicazione E i tre Migliori Giudicati Dalla giuria I migliori spot Riceveranno Un premio In danaro E la possibilità Ringraziandovi Voi La possibilità Anche Di promozione Nelle televisioni Della nostra regione È un'idea Che ho lanciato All'inizio Di questa Legislatura Quella di Rappresentare Con gli occhi Delle ragazze E dei ragazzi Più giovani Quella che sarà La Toscana Dei miei figli La Toscana Delle nuove generazioni Ringrazio Enzo Brogi Che Subito Ha colto Questa sfida Ha deciso Come Corecom Di lanciare L'idea Di premiare I migliori Filmati Che possano Rappresentare Quella e sarà La Toscana Nel 2050 Io mando un appello A tutte le ragazze E ragazzi toscani Partecipate Date il vostro Contributo Provate a raccontare Con le vostre lenti Quella che sarà La Toscana Di domani Come sarà Il turismo Nel 2050 Come sarà L'agricoltura Nel nostro territorio Tra città d'arti E piccoli borghi Come riusciremo A farli crescere insieme E le tecnologie Come impatteranno Sulla vita Dei cittadini Che cambieranno In maniera Notevole Ecco Attraverso gli occhi E le lenti Dei ragazzi E delle ragazze Più giovani Vorrei che venisse fuori Davvero L'idea Della Toscana Del futuro Io in queste settimane Ho deciso Di andare spesso Nelle scuole E lo farò Per tutta la legislatura Devo dire Devo dire che è stata L'esperienza Più bella Che ho vissuto In questi mesi Grande contaminazione Grande capacità Di leggere Il presente E il futuro Grande voglia Di partecipare Nella vita pubblica Come ho detto I ragazzi Non siate mai Indifferenti Non giratevi mai Dall'altra parte Abbiate il coraggio Di porci I temi di frontiera Quelli più difficili Da trattare Il rapporto Tra l'uomo E la macchina La necessità Di ripensare I temi dei diritti In maniera più sensibile E questa è la sfida Che noi abbiamo avanti E un'assemblea legislativa Non può che porsi A discutere di questo Per il governo Dell'oggi C'è la Giunta Che lo sta già facendo Molto bene L'oggi E la vocale L'oggi La vocale